In questi due anni di indagini, di pedinamenti, di intercettazioni abbiamo evidenziato la presenza di questo gruppo costituito da sei elementi legati da un vincolo associativo forte, da modalità operative condivise e soprattutto dalla capacità di poter non soltanto gestire e acquisire appalti nel settore dell'edilizia privata ma bensì anche quello di procacciare voti e sostenere candidati alle amministrative, a loro vicini o comunque potevano accrescere la loro capacità operativa per poter influenzare meglio la vita politica ed economica della valla. Non solo a loro vicini perché dalle indagini risulterebbe addirittura che uno dei tre amministratori arrestati era proprio organico al locale. Sì, la capacità di procacciare voti era tale da poter effettivamente inserire all'interno di un consiglio comunale, quello di Aosta, un loro sodale. Di quanti voti avete valutato dall'attività investigativa potesse disporre la locale? Allora, le caratteristiche poi della valla di Aosta sono caratteristiche peculiari che ben si prestano a questo tipo di ingerenza perché il numero di voti effettivamente esegue, essendo la regione valla di Aosta la regione con il più basso indice di densità demografica. Le attività investigative parlano di alcune centinaia di voti che risultano effettivamente determinanti per il successo di una tornata elettorale. E avete riscontrato anche un tentativo, poi sembra non andato a buon fine, di avvicinamento al candidato sindaco dell'ultima tornata? Sì, nelle elezioni del 2015 abbiamo effettivamente contestato a uno dei sodali un tentativo di avvicinamento nei confronti dell'attuale sindaco di Aosta il quale ha rifiutato e quindi pertanto nel caso specifico uno dei promotori del sodale risponde di tentativo di scambio di voti elettorali. Una delle figure dei Mirta, poi assassinato in Spagna, compare in un'altra indagine molto attuale in Valle d'Aosta quella legata all'associazione a delinquere che ha coinvolto anche il caseificio Valdostano. Allora, all'interno di questo procedimento penale, come avevo accennato, nasce nel 2014 dal monitoraggio dei fratelli Mirta persone di una caratura delinquenziale estremamente rilevante. Il loro pedinamento, con il loro costante pedinamento, il loro monitoraggio all'interno di questo procedimento aveva evidenziato effettivamente un interessamento verso l'impresa del caseificio Valdostano. Da qui poi nasce una costra del procedimento che ha portato all'arresto del facente di funzione del dottor Longarino. È valutato anche un traffico di stupefacenti non solo in Italia ma transnazionale, anche con propaggini in Spagna? Sì, diciamo che il core business in questo caso di Mirta Bruno era il traffico di sostanze stupefacenti e quindi in questo filone effettivamente vi è uno sviluppo investigativo condotto poi dai carabinieri del reparto anticrimine di Torino che ha portato alla cattura di altri otto soggetti, tutti gravitanti nella città metropolitana di Torino. Quindi l'attività investigativa a quello di oggi è considerato non un punto di arrivo ma un inizio sostanzialmente? Sicuramente un punto di partenza importante.